E Alberto Ancarani celebrò il suo primo matrimonio. Domenica scorsa è stata una data storica per il giovane consigliere comunale del PDL che con la fascia di sindaco di Ravenna nella sala del Consiglio Comunale ha celebrato il suo primo sposalizio. Alberto Ancarani al primo matrimonio? Sì, il mio primo matrimonio da consigliere comunale. E com'è stato emozionante? Ma diciamo che è stato un battesimo del fuoco al quale ho partecipato volentieri e sì, è emozionante perché per la prima volta ho indossato la fascia tricolore dell'ufficiale di Stato Civile delegato dal sindaco ed è sempre un'emozione rappresentare i cittadini anche per una funzione di questo genere. Quindi è partita la rincorsa al record Mingozzi? È un record a lungo quello di Mingozzi benché forse si raggiunga più facilmente di quello di Maurizio Cevendini a Bologna però è comunque un record che sarà molto difficile da raggiungere soprattutto se si è consiglieri comunali di opposizione. Però ci proviamo, ci proviamo. Ho già lanciato il guanto di sfida al vice sindaco. Per Ravenna Web TV Sara Pietracci.